I nostri prodotti sono tutti made in Italy. La scelta aziendale è quella di rimanere in prossimità del comprensorio ceramico anche a discapito a volte delle ottimizzazioni di costo e quindi nello stabilimento di Toriana noi controlliamo la filiera completa di produzione di tutti i prodotti che si vengono utilizzati nel settore ceramico. Produciamo fritte, produciamo inchiosti, produciamo pigmenti, basi serigrafiche atomizzate, graniglie, prodotti miscelati, quindi siamo in grado di assolvere ad ogni esigenza dei nostri clienti ad una distanza decisamente ridotta dal comprensorio ceramico. La scelta che è stata fatta qui in Italia l'abbiamo ripetuta in Messico, in Indonesia, in Spagna, dove i mercati che noi riteniamo opportuno seguire con strutture complete, lo facciamo andando in prossimità della clientela, cioè producendo tutto il possibile in loco. Questo ci permette di offrire un servizio, una qualità e un'assistenza immediata alla nostra clientela. Il target è quello di essere il partner preferito dal cliente, in pratica, cioè quando un cliente ha un problema o vuole una cosa nuova, tira sul telefono e chiama Sicce perché sa che può avere una risposta in tempi rapidi e ragionevole sempre. Riteniamo che il know-how italiano sia ancora preponderante nella produzione delle ceramiche nel mondo e che quindi anche tutti gli aspetti di ricerca e di sviluppo di prodotti vengono fatti qui e anche tutte le produzioni perché siamo assolutamente convinti che i clienti premeranno la nostra presenza sul mercato in prossimità dei loro stabilimenti. Noi con questo nuovo corso dobbiamo tendere alla qualità più alta perché è quella che premia a medio e lungo termine, cioè il cliente si deve sentire appoggiato in questo al 100%. Quello che noi dobbiamo fare sempre per il cliente è un vestito su misura, quindi partendo dalla ricerca, dall'assistenza pre e post vendita è quello che è lo scopo dei laboratori, che abbiamo dotato anche di strumenti all'avanguardia per seguire questo. Tutto quello che possiamo misurare si può tradurre in assistenza efficace. Grazie per la visione!